ahhhh! stiamo morendooo! AHHHH! no non proprio anche se questo è il covo letale stiamo ancora tutti bene per il momento anche se ho dovuto rifare il primo livello eeeh questo è il livello pieno di insetti tarli che sono insetti e piante carnivore lì c'è ancora una caciociaro oh no! siamo troppo vicini così oh! che posa per rimanere paralizzato era lì con la bocca aperta ok siamo occupati di amico Joe oh tu! vai K.O. per favore rimanete qui non prendete non prendete non fategli stupidi caciociaro sta solo andando a controllare quel luogo per voi smike ok mmm la fragola e il sushi davanti al sushi c'è un no davanti all'entrata e alla fragola però ci sono dei dei tarli nooo nooo cosa stai facendo vieni giù dove vai? ma dove vai? lì sei off limits ok intanto facciamo trasportare ai blu questa fragola nooo ok nooo ok occupiamoci di quello di la e poi portiamo tutto via e userò i i blu perchè non voglio rischiare che i pigmin cadano in acqua quando camminano su quel ponticello ok adesso scendi per favore scenda lei scenda ok ok snake we got this blu voi cosa fate là? dormite? blu 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 prendete la fragola blu blu ok e ora altri blu Per il sushi Non ha più blu Non la rischio Scherziamo No 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 Piuttosto Mi limito a portare questi Che di sicuro non cadranno dal ponticello Perché sono da soli Sponchati Mi mando ciocero a Ok sono ancora lì Fragola Abbiamo già presa una ma non era così grande Mi sorge il dubbio Quello è l'ultimo tesoro Ma spero di sì Ok è arrivata la fragola Una fragola per i tuoi pensieri 190 Wow Bacca succulenta Manca il sushi Tu rimani lì Da portare i blu a fare un lavoro sporco Ok boys Prendete il sushi Non c'è precedo la aspettiamo che arrivino i blu ok olimar preparati no c'è anche il miele da da usare dov'è il mettere eccolo là c'è quel viola senza foglie e va arrivato il sushi non è sushi vero non è sushi è una palla di riso un onigiri credo è riso no? un onigiri con dentro uno di quei cosi amari amarognoli suscitatore di gusto ok tesori finiti mister president siamo pronti per scendere al livello 3 cioccio rodice di 27 73 here we go super mario Sunshine No, no Parabam Cos'è, sarà Intermittenza tra uno Oh, un ditero ladro Iniziamo bene il livello Ehm, com'è Piuttosto ristretto, eh Ok, ditero ladro Fermati E ora i viola Adesso tutti quanti Bonk Nice Ehm Accidenti, io non vedo nessuno C'era solo quel ditero ladro Quello che mi spaventa è quello che c'è dietro i muri Uovo Uovo Con un ville Porca padella Oh la madonna Ciapala, 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 ciapala Uovo Perché la musica non è finita Non ci ha dato il tema musicale di boss sconfitto Non ce l'ha dato Sapete cosa significa vero? No forse no Perché non ci è mai capitata questa situazione Ma Da qualche parte qui Ce n'è un'altra No Dove sei altra? Dove sei? Sarà quella col tesoro Quindi sarà qui Ciappala 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 Prendila Sì Bang Bang Letale un paio di balle Ti abbiamo sconfitto Abbiamo la tua salsiccia del cavolo Abbiamo una salsiccia Cartella carnosa D'accordo Ed era l'unico tesoro Ci credo Ok Covo letale Sono d'accordo Sei letale Sei letale Sufficienza Ok Ok un uovo All'inizio pensavo Ma sarà un livello Un livello di relax Un livello di relax Cosa? Due vermentille Cioè Sono andate giù Abbastanza in fretta Credo perché Non erano Perché erano in due Quindi essendo in due Gli hanno dato meno vita di Di un boss Però vi sembravano più grandi Di quell'altra O dovrei confrontare i video Però Ah qui c'è una Con una villa bianca Qui c'è l'uscita Uff Ci tiene alto Il battito cardiaco Per lo meno Ok Andiamo a aprire le uova Smack 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 Honey Smack smack Lamb Bababam Bababam Mi servirebbe un po' di Spray ultramaro No eh Così tanto nettare per cosa Per cosa In effetti Un po' dei rossi Che ho portato Li renderò Viola Ok Ok Facciamoli diventare dei fiori Mamma mia Mamma mia Se sono lenti Nice Uh c'è ancora qualcuno Con una foglia Ho visto Un bianco Bevi bianco Bene Io chiudo qua il video Abbiamo completato Abbiamo completato la seconda metà del livello 2 E il livello 3 Niente male eh E quanti teser abbiamo ottenuto Non ce lo dice la cartina eh 5 o 6 Comunque Grazie ancora di aver guardato il video Se vi piace Se volete iscrivetevi Ehm E niente Continueremo Il covo letale Sperando In sorprese Meno pericolose di questa Ush Proprio Non avevo proprio voglia Di affrontare Di affrontare Due vermentille Fortuna che non erano vicine Perché due allo stesso momento Sarebbe stato un inferno Comunque Grazie ancora Alla prossima Con Lethal Blade Ninja E Pigmin Duet Ciao